La Lauburelle. La Lauburelle le picchiette nei toni, ma anche in Laub, e che la c'è troppo e chiedere il Liceo des Ambrois de Wulss. Le c'è un sito d'interesse comunitario che passano sulla guardia della regione. La Lauburelle, in effetti, le parecchie, dopo l'utravaus, c'era una carriera d'arciera, che avevano l'agliasse di Etogne, che servivano per lavorare al Tunnel d'Afréjus. Le cilau è interessante perché all'ambarco di di planta e minura, diciamo, di canna e di buissons, rora. Ma è un invertebra importante, come la fosse il gambe d'Aigo deusso.